Il miracolo della moltiplicazione dei panni e dei pesci è il miracolo più conosciuto e corriamo il rischio di liquidarlo con due battute. Avete presente, c'è un sacco di gente, la gente ha fame, Gesù li vede, fa due o tre gesti, sing salabim, tutti mangiano, tutti contenti, applauso, sipario. In realtà dobbiamo stare molto attenti perché fra tutti i miracoli in assoluto questo è il più complesso. E' la ragione per cui gli evangelisti ne parlano sei volte, è l'unico miracolo riportato così tante volte all'interno dei quattro vangeli sinottici e nel Vangelo di Giovanni. E' perché probabilmente questo miracolo che è sicuramente il più eclatante, vi immaginate, diventa un po' difficile organizzare una truffa con cinquemila persone. Sicuramente il miracolo che dà maggiore notorietà a Gesù è però, dobbiamo essere sinceri, il peggior miracolo, l'inizio della fine. Perché da qui in avanti ci testimoniano gli evangelisti, in particolare Giovanni che leggeremo da qui in avanti per qualche settimana, segna come dire la svolta. Il momento in cui Gesù da rabbino molto amato, molto cercato, molto applaudito, molto seguito diventa d'improvviso qualcuno da cui tenersi distanti. Perché, come vedremo fra qualche settimana, dopo questo miracolo, sempre nella versione di Giovanni ci sarà una lunga disputa. Stiamo attenti allora a prenderlo molto con le pinze, ad approfondirlo. Perché è un miracolo grandioso, straordinario. Gesù probabilmente pensa, spera, si immagina che i discepoli, la folla che lo seguiva da tanto tempo, così sordisce Giovanni, che lo seguiva al di là del Giordano, quindi sa bene chi ha davanti, sia pronta per il salto di qualità. Perché questo miracolo segna sicuramente una richiesta particolare da parte di Gesù. Sicuramente segna, come dire, una cartina al tornasole, una prova, un banco di prova per quelli che gli sono attorno. Gesù veramente vuole verificare se le persone che ha davanti hanno in qualche modo capito dove lui sta andando a parare, ma ahimè non è così. Ricordate qualche domenica fa quando Gesù, insieme agli Apostoli che sono stati inviati e tornano, domenica scorsa, dice andiamo da qualche parte e trovano grande folla e sente compassione per loro, perché sono come pecore senza pastore. E qui quasi idealmente ci ne stiamo, lì era Matteo e qui Giovanni, su quello che Gesù fa, compie. Si gira intorno agli Apostoli, in particolare si rivolge a Filippo e dice ma dove possiamo trovare da mangiare per tutta questa gente? Gesù vede, si gira intorno, alza lo sguardo, dice Giovanni, bellissimo, ma non alza lo sguardo oltre l'orizzonte, nell'alto dei cieli, alza lo sguardo per incrociare lo sguardo delle persone di chi gli sta di fronte. E vede desiderio, fame, compassione, non pena, dicevamo. Vede questa fame profonda di cibo, di giustizia, di attenzione, di amore, di affetto, di soddisfazione, di serenità che portiamo tutti nel cuore. Vede, vede e chiede una soluzione. Ed è interessante, è quasi ingenuo, il problema non è come trovare tutto il pane o chi lo paga, ma il problema è riusciremo a trovare un fornaio così fornito da dar da mangiare a tutta questa gente. Anche Filippo, che ha un ruolo molto particolare nel quarto Vangelo, il nome stesso, Filippo, denuncia una provenienza un po' meticcia, non è un ebreo o forse, chissà, è uno di quegli ebrei provenienti da quell'incontro un po' catastrofico del periodo alessandrino, dove la grecità aveva un pochettino infettato la nazione ebraica. Tant'è, nel Vangelo di Giovanni Filippo appare come una persona straordinaria, molto ben disposta, ma probabilmente anche un po' un uomo di mondo, diremo oggi, non un provincialotto come Pietro e gli altri. E in effetti Filippo, davanti alla domanda di Gesù, molto concreto, molto ragioniere, molto commercialista, dice, guarda, il problema non è dove, il problema è come, chi, perché, aggiunge, va subito nel concreto, nemmeno 200 denari di pane servirebbe a dare a ciascuno un pezzettino. 200 denari, ragazzi, ricordate quando si lavora una giornata per un denaro, quindi 200 giornate lavorative, ma quanto pane compri con 10 mila, 12 mila Euro, un sacco. Ecco, volutamente Giovanni segna la sproporzione fra, come dire, l'impresa eccessiva, la cosa di fatto impossibile e la soluzione che non si riesce a trovare. Ora, non so voi, ma io mi trovo tante, 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 tante volte nella stessa condizione di Filippo. Davanti a questi disperati che muoiono annegati nel nostro mare, davanti a tutte le questioni vere, reali, le obiezioni sull'accoglienza che ci sentiamo fare, davanti a tutto questo viene veramente da arrendersi, viene veramente da dire no, non è possibile. Davanti alla fatica che facciamo a tenere insieme le nostre comunità, davanti a questo mondo che sembra soverchiare e quasi dimenticare il Vangelo che pure lo ha nutrito e l'aiutato per tanti secoli, viene da dire Signore un po' troppo anche per me. Guardate, io vedo il senso di struggente fatica che provo nell'osservare intorno a me, dentro di me, tanta violenza, tanta grettezza, tanta apparente realismo che in realtà nasconde una piccineria che mi fa tremare i polsi. Io non ho soluzioni, io sono qui a parlare in questa bellissima serata d'estate di Vangelo a voi che mi ascoltate, dieci, dodicimila, grazie per ascoltarmi, ma prendo la parola e la condivido così come Gesù, preso da compassione, spezza la parola. Però non ho soluzioni. Ecco allora che davanti ai tanti problemi il rischio è di guardare con tenerezza quel buon tempone di Gesù, quel bravo uomo di Papa Francesco, dire sì, ok, va bene, voi dite le cose che dovete dire, ma la realtà è un'altra. Non ci sono soluzioni a questi problemi. Gesù però non è completamente d'accordo. Sì, certo, ci vuole un po' di sano realismo, ci vuole anche molta concretezza, Dio solo sa quanto sia pieno di concretezza e di scelte oculate e meditate nel Vangelo. Ci vuole l'incoscienza di qualcuno che soppia andare oltre i calcoli matematici, oltre gli studi e le analisi. Ci vuole un po' di profezia, un po' di follia, un po' come quella che hanno gli adolescenti. Infatti Giovanni è l'unico a dirci in questo racconto chi è stato a dare il cambiamento di rotta, chi è stato a far capire che le cose stavano in maniera completamente diversa. Un ragazzo, un ragazzo, un adolescente, un ragazzo che a un certo punto ci immaginiamo la scena, è riuscito a farsi largo, è arrivato proprio addosso a Gesù di fatto, seduto per terra, c'è Gesù, la schiera dei dodici, poi c'è lui insieme a qualcun altro. A un certo punto tira per la tunica uno degli apostoli e dice di ma io se volete ho qui la mia merenda. Andrea quasi imbarazzato, entra dentro il discorso fra Gesù e Filippo e dice guarda scusa ma c'è qui questo ragazzotto che ha la sua merenda, il kinder, una barretta al cioccolato, però Gesù sorride, ci voleva tanto, ci voleva tanto, ci voleva la fantasia e la follia di un dodicenne che la smette di fare i calcoli e che dice vabbè io intanto comincio, certo che è lontana la meta, certo che è alta la vetta, ma io almeno comincio e lo fa e dà del suo. Ed ecco la soluzione, la soluzione non è risolvere tutti i problemi perché non ce la facciamo, ma è prenderli a cuore, condividerli, nel nostro piccolo fare il primo passo, ma certo che io non ho soluzioni nell'immediato di questo stravolgimento che sembra coinvolgere tutto il mondo, però comincio a essere raccogliente, gentile e buono, che non vuol dire fesso, ma vuol dire uno che si siede ad ascoltare, uno che capisce le ragioni, uno che si mette in relazione. Questo ragazzo mette del suo, questo ragazzo diversamente da Filippo e dagli altri non cerca una soluzione fuori, dice beh, cominciamo col mettere in gioco quello che ho, poca roba, poca roba, pochi pani, pochi pesci, proprio una merenda, eppure rinuncia a quello che è suo per darlo e Gesù si illumina. Ci siamo, ha capito, ha capito. Ha capito perché il cuore di questo miracolo non è la moltiplicazione, ma la condivisione. Il cuore di questo miracolo non è che arriva Gesù, fa so tutto mi, che ci risolve i problemi, ma che ci insegna a condividere le soluzioni, senza accampare la scusa, ma io non sono capace, non ho abbastanza energie, non sono abbastanza carismatico, eccetera, eccetera. Scuse, appunto, senza accampare scuse, ma cominciando a dare quello che siamo, anche se non è straordinario o apparentemente non è sufficiente. E così la folla mangia, tutti, cinquemila, cinquemila capi famiglia, ci dice contento Giovanni, cinquemila capi famiglia. E poi c'è questo dettaglio su cui ho riflettuto, Gesù chiede di raccogliere le cose avanzate, immaginate già solo far avanzare del cibo della gente che mangiava un giorno sì e l'altro no. Eppure avanza, come dire, la sovrabbondanza, il pasto abramitico, l'accoglienza, il pasto luziale, il regno, ebbene tutto questo ne avanza. E non so perché mi abbia colpito questo, perché per tre volte in una frase c'è avanzi, avanzare, raccogliete. Come dire che può succedere nelle nostre comunità e succede di avere persone magari che si avvicinano a noi, al Vangelo, magari solo per brevi momenti della vita, per un battesimo, per un matrimonio, per un funerale, magari perché hanno un momento la fase mistica della loro vita e poi mollano due a zero. E a volte ci restiamo un po' male, cioè ci sentiamo un po' così, però in questo tempo fluido è così, non possiamo fare diversamente. Ecco, non disperdiamo gli avanzi. va bene così. Quello che noi possiamo fare è davvero provare con passione e mettere in gioco quel po' di merenda che abbiamo. Quello che possiamo fare è imitare Gesù nella sua straordinaria e immensa capacità non di trovare soluzioni, ma di condividerle a partire da quello che ciascuno di noi è. Cerca Gesù perché lo vuole fare re? Eh beh, intendo dire giusto, immagino, ovvio. Anch'io lo dico pubblicamente, voterei chiunque mi regalasse 20.000 Euro all'anno, senza l'ombra di dubbio e sono certo che lo fareste anche voi, perché è evidente che è molto popolare qualcuno che promette una soluzione. E Gesù resta turbato, scappa, come vedremo le prossime volte, perché la gente non ha capito niente. Il significato del suo messaggio è molto semplice, davanti alla fame, davanti ai bisogni, davanti alle richieste delle persone, invece di lamentarti, invece di delegare a Dio, metti in gioco ciò che sei. La gente invece ha capito, ecco uno che ci risolve i problemi, l'esatto contrario. Su questo rifletteremo. Buona domenica. Grazie a tutti.